musica musica ho un attacco di energia pazzesco è arrivato il frescolino sono 52 Fahrenheit più fresco del solito cintura vai iniziamo la giornata mattina devo andare a portare l'Iran Emilia un'audizione si chiama New Girl che forse c'è già anche in Italia andiamo sono già in ritardo iniziamo la giornata queste sono le camelle che amo di più queste sono le camelle che amo di più Emilia va amata per questo sono buonissime mamma mia che buono mattia abbiamo la sua la sua scrivania è diventato un collaboratore doc masterista lui viene qua ogni giorno a fare i suoi video a fare le sue cose a fare gratis non disturba nessuno ed è bello è bello perché comunque sembra di avere un collega italiano abbiamo un pezzo di Italia qui abbiamo il vetro questo è quel vetro praticamente noi ci vediamo così hi scheda andiamo a prendere l'Iran Emilia tre e mezza sarò all'asilo delle bambine boom dobbiamo andare giù a West Hollywood facciamo l'audizione la Nicole mi ha chiamato sono state prese per quindi le hanno sbloccate perché erano ne old old vuol dire praticamente che se hai preso però ti aspettano vedere un po' se cambia lo script quando scrivono le storie perciò non hanno cambiato lo script vanno nella prossima della puntata non so quando sarà una puntata in Life in Pieces che è molto carino come show e oggi invece abbiamo questa cosa come dicevo A New Girl che questo è uno show grandissimo è già la settima stagione qui in America mi sembra che anzi Mattia mi diceva che su Netflix è la quinta stagione quindi speriamo che le prendano perché se le prendano comunque le potete vedere ancora su gli schermi noi andiamo ci vediamo dopo ciao ora ti faccio conoscere Justin Justin io ho molti seguenti ti amo ti amo ti amo ti amo Italia bello Italia ma ti amo Italia Justin belle donne mi amo belle donne Justin questo è un pazzo matto sclerato è un pazzo che ha 5 barche qua in Marina ed è un grande amico prima di essere cliente lui è l'unico grande amico che prima è amico e poi è cliente e poi è cliente Mattia ha deciso di farsi un stop and go di un annetto qua in Los Angeles da me è un visto fino a quando? in realtà fino a novembre un visto fino a novembre e poi lo mandiamo in Italia per un mesetto Natale e poi ritorni io concordo magari fare first mate fare il primo aiuto capitano o cose del genere però bisogna vedere se puoi avere i permessi per lavorare sì però è un casino sì ma di love I love you ma andiamo a mangiare con Justin e Mattia e me we love you ciao 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 bello are you James hello shaggy where are you shaggy come to my boat i see you there bye bye sembra che abbiamo bevuto ma non abbiamo neanche bevuto assolutamente zero can we do that yeah oh yeah un normale tranquillo pomeriggio in merito oh scusa per goccia no oh my bye bye mi sono dimenticato la camera in ufficio e Mattia mi ha chiamato da essere puntuali a essere in ritardo tipico di Walter americano devo incominciare a correre un po' di più siamo a 5 minuti dall'audizione penso sia andato bene ovviamente non sapremo fino a un paio di giorni ora andiamo target e poi andiamo a mangiare un po' di sushi e noi ci vediamo a casa ciao 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 ciao